Eri Fiusi A.S.M.R.D. Ciao a tutti amici fiusini come state? spero tutto bene oggi andremo a fare un bel video tapping sempre con l'aiuto di Zeus eccolo qua andremo a fare il nostro tapping siete pronti? uno due tre go ok 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.